Meghan Markle e il principe Harry stanno pensando di vendere la loro villa in California dopo soli 18 mesi poiché non sono al settimo cielo per la proprietà, è stato affermato. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa del Sussex, che si sono trasferiti dall'altra parte dello stagno nel 2020 dopo aver lasciato i doveri reali, hanno iniziato a fare indagini su altre case. Una fonte ha detto al Sunday People. Stanno pensando di vendere la loro casa lì. Tuttavia, non sarà sul mercato a causa di chi sono. Viene mostrato solo a persone che sono confermate con fondi e sono acquirenti seri. Secondo quanto riferito, Harry e Meghan hanno Montesito, ma sono meno interessati alla loro attuale proprietà e alla sua posizione nell'enclave delle celebrità. La fonte ha aggiunto, vogliono stare nel quartiere o nelle vicinanze, ma non sono al settimo cielo per la casa e la posizione. Express.co. UK ha contattato i rappresentanti dei Sussex per un commento.